Una giornata difficile per i vigili del fuoco di Avellino per due incendi che si sono sviluppati a poche ore di distanza ma che hanno messo a rischio l'incolumità delle persone. Intorno alle due le fiamme si sono levate altissime tra Corso Europa e Corso Vittorio Emanuele. Il fuoco è divampato su un terrazzo del deposito di un noto store di abbigliamento ed è partito dall'impianto di condizionatori dell'aria. Una struttura imponente presente sul terrazzo, fiamme e fumo sono stati visibili a centinaia di metri. Paura per i residenti della palazzina che hanno dovuto abbandonare le abitazioni a scopo precauzionale. I danni sono stati ingenti e non solo all'impianto di condizionamento ma all'intera palazzina. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state spente evitando che le stesse si propagassero anche al vicino palazzo. Sono andate a fuoco le tende da sole del primo piano dell'edificio e danneggiati quasi tutti gli infissi della struttura. Le operazioni di spegnimento e messe in sicurezza con rimozione delle parti pericolanti sono durate circa quattro ore. Poche ore dopo un'altra squadra dei caschi rossi è intervenuto a Rione Parco per un altro incendio che ha riguardato il centro bocciofilo. Le fiamme si sono propagate all'interno di una struttura in lamiera situata sul lato posteriore. Le fiamme si sono alzate altissime, la colonna di fumo nero era visibile a centinaia di metri. Fortunatamente nessun danno a persone. Le fiamme sono state spente e l'aria è stata messa in sicurezza.